E' stata la conclusione del mio sogno, quello per il quale io ero andato a Perugia tre anni fa. E' come se era un film che già mi era passato nella mente per tantissime volte, ma soprattutto credo migliaia di volte l'ultima settimana, quella che è stata la più importante, quella che è stata della preparazione all'ultima sfida. Un boato unico, ho solo nella mia mente il tuono di tutto il Curi che urlava Serie B, Serie B, Serie B. Mi ricordo solo tante mani, tanti abbracci, tanti visi, gente che piangeva, gente che urlava impazzita, gente che si buttava per terra e l'apoteosi. Una giornata veramente storica. Grazie.